Ciao a tutti ragazzi, oggi torniamo a parlare di sacchia pelo, nel particolare ho qua due sacchia pelo del brand Vango Un modello in sintetico, un modello in piuma, di cui adesso vediamo insieme pregi e difetti all'interno della recensione completa Iniziamo come solito guardando le caratteristiche dei sacchia pelo Iniziando a modello in sintetico, modello Vango Microlite 200 Questo Vango è fatto con un materiale poliestere ripstop 20D Ha una temperatura comfort di 5 gradi limite di 1 Non sono disponibili taglie, è una lunghezza standard, quindi non sono disponibili per renderci le taglie SML Il tutto per un peso di soli 960 grammi Adesso, come ho visto le caratteristiche, vediamo nei pregi e difetti Iniziamo guardando i materiali con cui ho fatto questo Microlite 200 Come dicevo, è un poliestere 20D ripstop Un materiale molto leggero con cui mi sono trovato molto bene È un pochino anche ridro repellente e questo è sempre ottimo Perché se la mattina ci si dovesse formare un po' di condensa nella tenda Al cadere qualche goccina, non avremmo problemi che il nostro sacco a pelo si possa bagnare E soprattutto anche se dovessimo utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi Un po' di ridro repellenza fa sì che la temperatura comfort del sacco a pelo non aumenti Quindi, da punto di vista del materiale, è fatto molto molto bene Davvero, io l'ho utilizzato in tante notti E non ha subito nessun tipo di lacerazione, quindi fatto molto bene A livello di termicità, come dicevo, ha la temperatura comfort di 5 gradi Però io vi dico, l'ho utilizzato anche dormendo una notte a 2-3 gradi Ci ho dormito tranquillamente, non ho avuto freddo Pur avendo io semplicemente dell'intimo quando ero all'interno del sacco a pelo Poi diciamo che la temperatura comfort varia un po' anche da persona a persona Però se siete persone, magari un pelo calorosi potete scendere di qualche grado senza nessun problema Come ci si dorme all'interno? Molto bene È fatto a forma mummia, ma non è una mummia molto ristretta Quindi io ci ho dormito veramente molto bene Sono riuscito anche a girarmi all'interno senza tanti problemi Va a ristricarsi molto nella parte terminale dei piedi, però quello ci può stare Ma diciamo che tutta la parte dal bacino in su è comunque abbastanza ampia Quindi non tanto crostrofobica Per quanto riguarda poi le feature di questo sacco a pelo Troviamo una cerniera singola presente sul lato di sinistra Che è fatta comunque bene, la cerniera non si intoppa quando andiamo a tirarla su e giù Quindi ottimo davvero, io personalmente l'apprezzo tantissimo All'interno troviamo una tasca dove andare a riporre un qualsiasi oggetto Come un telefono che vogliamo tenere al caldo vicino al nostro corpo E sulla parte sommitale del cappuccio e la parte sommitale del sacco a pelo Abbiamo due elastici da andare a tirare per chiuderci il sacco a pelo attorno al nostro collo A nostra testa in modo tale da non fare entrare il vento in caso di nottate particolarmente ventose Altra caratteristica che mi è piaciuta davvero tanto di questo Micro Light 200 Sono le dimensioni Cioè guardate, è veramente molto molto piccolo È un sacco a pelo che messo all'interno di uno zaino da trekking Con magari tenda e tutto il resto per star fuori diversi giorni Occupa veramente poco spazio Quindi io mi sono trovato veramente molto bene Soprattutto la grandezza di questo sacco a pelo È uno degli aspetti che più mi ha convinto Infine per mantenere questa temperatura di comfort Questo Vango utilizza la tecnologia Thermal Reverb Che fa sì che praticamente ci sia una specie di strato laminato Dall'interno del sacco a pelo Che va a riflettere il calore dato dal nostro corpo E lo riflette proprio all'interno del sacco a pelo Quindi ha una maggior capacità isolante E una maggior capacità di tenere la temperatura Passiamo ora al modello in piuma Ovvero il Vango Cobra 400 Questo Cobra 400 ha una temperatura comfort di meno 1 Limite di meno 8 Per quanto riguarda la piuma È una piuma 90-10 con un fill power di 700 Purtroppo non sono disponibili delle taglie C'è solo la taglia standard singola Il tutto per un peso di 920 grammi Inizio subito parlandovi di questo Cobra 400 Dalla cosa che più mi è piaciuta e più mi ha sorpreso Ovvero il fill power e la qualità della piuma Cioè parliamo di una piuma 90-10 Cioè parliamo di una piuma quasi veramente perfetta Quasi eccellente Tenete conto che una piuma 90-10 la troviamo su modelli di sacchia a pelo Super super top Cioè veramente è una piuma d'altissima qualità E un fill power di 700 è comunque molto alto Davvero molto molto alto Brand competitor stanno su 550-600 come fill power Infatti quando vado a richiuderlo vi assicuro che diventa molto molto piccolo E le dimensioni sono l'altra caratteristica che mi è piaciuta Per quanto riguarda il materiale Qui troviamo un nylon ripstop 20D Anche qua un nylon molto leggero Idro repellente che come per il sacchia a pelo precedente È perfetto in caso di umidità O in caso che cada qualche goccia di umidità all'interno della tenda Soprattutto poi su un sacchia a pelo in piuma Che soffre veramente tanto l'umidità Quindi questa parte di idro repellenza Per questo Vango Cobra 400 Personalmente l'ho super apprezzata Ma poi questo Cobra è veramente pieno 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 di tecnologie Ad esempio utilizza una tecnologia per il quale non si va a impigliare la cerniera all'interno della fodera Quindi riusciamo a sollevare e abbassare la cerniera senza nessun problema Le cerniere sono doppie Quindi volendo possiamo aprirlo diciamo anche a metà Quindi ottimo Troviamo la tecnologia Arrow Foot Ovvero abbiamo un po' di spazio in più sulla parte dei piedi In modo tale che i piedi possano distendersi E stanno nella loro posizione naturale senza essere costretti Troviamo inoltre la tecnologia 3D Insulated Che questa fa sì che non si vada a dispendere il calore all'interno delle cuciture E che comunque la piuma resti diciamo salda al suo posto e non vada a dispendersi per il sacco a pelo E davvero troviamo tantissime tecnologie su questo Vango 400 Cobra Che non mi sarei mai aspettato Per quanto riguarda poi collo e parte superiore del cappuccio Anche qua troviamo la parte in cui poter andare a stringere queste due estremità Per far sì che vadano ad attaccarsi attorno al nostro corpo E che non si disperda ulteriore calore Infine come vi dicevo Temperatura comfort di meno 1 Limite di meno 8 Ci stanno per un sacco a pelo 3 stagioni Attenzione che può essere usato solo da persone alte massimo 190 cm È un sacco a pelo a mummia A mummia abbastanza stretta Comunque più stretta rispetto al microlett che abbiamo visto prima Diciamo che se siete particolarmente spallati Cioè persone con delle spalle particolarmente ampie Allora questo potrebbe diventare un pochino un problema Perché è abbastanza mummia Vi consiglio in questo caso di magari andare a guardarlo Andare a provarlo Comunque almeno di prendervi la larghezza delle vostre spalle Detto ciò arriviamo alle conclusioni Vi consiglio di acquistare questi due sacchi a pelo di Vango Analizziamoli singolarmente Per quanto riguarda il microlight 200 assolutamente sì Lo si trova online a un prezzo di 100-110 euro È veramente buono Soprattutto si fa su molto piccolo Quindi davvero facilmente trasportabile Pesa meno di un chilo Anche rispetto a brand competitor Come prezzo siamo lì Ha anche secondo me delle caratteristiche maggiori Perché a livello di volume è più piccolo rispetto a quelli di competitor Quindi personalmente sì davvero Io questo microlight ve lo consiglio tantissimo Soprattutto se magari volete iniziare col trekking Quindi per i principianti è perfetto Per quanto riguarda invece il cobra 400 viene venduto a un prezzo di 360-380 euro È un prezzo abbastanza alto Brand competitor si possono trovare dei sacchi a pelo da diciamo meno un grado a un centinaio di euro in meno Però questo ha dalla sua sicuramente una qualità della piuma premium eccellente Un fill power molto alto che lo fa rendere molto piccolo Quindi diciamo che il prezzo è commisurato a quelle che sono anche le tecnologie Quindi sì secondo me ci sta a questo prezzo Detto ciò ragazzi Io ne ho speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questa recensione Un ringrazio per la guardata E noi ci vediamo alla prossima Ciao